Ecco l'Avellino andare giustamente in vantaggio con punizione battuta da Diaz, palo interno e troppo tardi per Castellini rete 1-0. Il Napoli blandamente ha tentato qualche volta di opporsi all'Avellino e qualche volta è stata ancora l'Avellino andare vicino al raddoppio come in questa occasione in cui Diaz manda all'indietro un pallone che però non trova nessuno dei tre avellinesi pronti al tiro. Del Seu punizione, Frappampi non fa tardi, fanno tardi anche gli altri compagni e respinge la difesa dell'Avellino. E siamo ancora al primo tempo, 25esimo minuto, 26esimo, Tagliaferri ha la palla del raddoppio dell'Avellino ma questa volta Castellini è pronto. Secondo tempo, il Napoli non cambia e non cambia la fortuna di Pellegrini. Invece l'Avellino ancora una volta va vicino al gol prima con questo tiro di Diaz e poi con altri tiri di Barbadiglio e di Schiavi.